31 ospiti positivi in un settore di 35 persone, come può accadere? Ce lo stiamo chiedendo, abbiamo chiesto la documentazione da parte delle cooperative rispetto a ciò che è avvenuto. La documentazione è stata rimessa, quindi il tempo di verificarla e potremo capire che cosa è sfuggito. Ricordiamo che nessuno si è divertito a creare questa situazione, quindi dobbiamo capire da dove nasce per eventualmente non far più in modo che si verifichino certe situazioni. Ci sono anche tre operatori sanitari positivi, giusto? Sì, ovviamente bisogna vedere da chi questa positività è stata portata. Non è detto che siano gli operatori, però dobbiamo verificare perché noi abbiamo a che fare con delle persone anziane e quindi deboli e dobbiamo avere il dovere di tutelarli al massimo. Sì, la nostra non era un'accusa perché può essere stato anche un parente, un familiare, però l'importante è dire, ribadire che il vaccino ha funzionato. Assolutamente sì, perché non si immaginava cosa poteva succedere senza che ci fossero state le tre dosi di vaccino. Nota a margine, i viali Crispi nella zona prospicente, la De Benedicchi, ci sono stati dei lavori in corso, la pista ciclabile, i nuovi parcheggi orizzontali. C'è stato un errore, voi questa mattina avete inviato una PEC all'amministrazione comunale? Assolutamente sì, perché innanzitutto credo che nelle vicinanze di una proprietà quantomeno uno si debba confrontare con la proprietà per verificare eventualmente le proprietà, ma io ritengo che prima di iniziare a fare determinati lavori si dovrebbe verificare se si possono fare, se si va su una proprietà altrui o meno. Però devo dire che questa amministrazione è passata dal fare circa 7-8 interviste su Regina Margherita, che è una nostra proprietà, adesso addirittura entra sulla nostra proprietà, sulla proprietà dell'ASP. Nostra perché è di tutti, ricordo. Chiederete ovviamente il ripristino dei luoghi? Assolutamente sì, è partita una PEC, immediatamente deve essere ripristinato ciò che c'era prima, perché ripeto, 5 metri dal muro sono di proprietà dell'ASP e quindi il Comune non aveva nessun diritto di poter fare ciò che ha fatto.